Martedì 28 maggio a Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, c'è un evento annuale, una milonga solidale, un evento solidale che tutti gli anni organizziamo per aiutare e sostenere un'associazione. In quest'anno, come per il terzo anno consecutivo, c'è l'associazione Alzheimer Liguria. La speranza in un abbraccio è il nome della giornata tra tango e beneficenza dal programma davvero intenso. Si parte col Pilates alle 12 per scaldarsi, si continua con uno stage di seduzione, a ruota la ginnastica ritmica, la tap dance, tango e teatro e poi la tango terapia per il benessere. La giornata continua con un incontro alla scoperta dell'Argentina, è ancora musica e perché no il pesto, per aprire poi le danze con la milonga fino a notte fonda. Tutte queste attività, tutti questi laboratori sono a disposizione di tutti, sono gratuiti, non c'è costo aggiuntivo, l'ingresso è libero per permettere a tutti di conoscere questi artisti nostri, che sono artisti genovesi, sono artisti locali. Voglio sottolineare una cosa, due cose, tutto quello che sarà ricavato verrà impiegato dall'associazione in un progetto che ormai va avanti da moltissimi anni, di assistenza domiciliare gratuita per chi ha un malato d'Alzheimer in casa. Quest'anno abbiamo vinto anche un piccolo progettino per cui anche dalla regione Liguria sono arrivati un pochino, un po' di denari. E voglio sottolineare la seconda cosa è che tutti gli artisti che intervengono in questa manifestazione e gli organizzatori, ce l'ho a fianco a me, in particolare intervengono a titolo assolutamente gratuito.